Grazie Roberto. Ti chiedo se mi puoi abilitare alla condivisione delle slide. Sì, eccoci. Ci siamo. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con i mercoledì di Sapie. Come forse chi ha frequentato questi ultimi pomeriggi, queste settimane del mercoledì, questo appuntamento, sapete che Sapie è una società, un'associazione, per estesa la società per l'apprendimento e le istruzioni informati di evidenza, che è nata nel 2015, raccogliendo intorno a una proposta che è nata da professor Calvani all'Università di Firenze, di un insieme di studiosi, di cercatori e persone che lavoravano nel mondo della scuola che condividevano un'idea. L'idea è quella che il mondo della scuola, ma più in generale il mondo dell'istruzione e dell'educazione, necessitasse il nostro paese di fare un passo in avanti verso una cultura maggiormente fondata scientificamente. Per informarvi, se avrete questo interesse rispetto alla mission e alle iniziative dell'associazione, vi invito a visitare il sito www.sapie.it, in cui vedrete le diverse iniziative appunto che portiamo avanti, sia in termini di collaborazioni col mondo della scuola attraverso progetti per il miglioramento didattico, sia avviando nella scuola italiana progetti di ricerca applicata sulle strategie didattiche efficaci, sia organizzando eventi come quelli odierni, cioè convegni e workshop mirati alla disseminazione della cultura informata dei virenze in ambito pedagogico in Italia, sia con una serie di pubblicazioni di cui appunto è ricco il sito www.sapie.it. Esistono diverse forme di collaborazione con l'associazione, sia in forma individuale, nelle forme di socio professionale, socio di ricerca, sia nella forma di enti, istituti, sia singolarmente che in rete, nella forma dei soci per programmi di miglioramento e dei soci sostenitori. Poi per tutta l'informazione a riguardo appunto rimando al sito www.sapie.it. Il ciclo in vero di Sapie è un'iniziativa che nasce dal neopresidente, il professor Trinchero, dell'associazione, e che ha avuto avvio nel primo periodo di questo 2021, febbraio 2021, con una serie di appuntamenti centrati appunto su diversi temi relativi all'evidence per l'education, alla didattica, alle strategie didattiche efficaci e oggi arriviamo al tema che forse per il titolo poteva essere quello o meno d'appeal per forse il nostro pubblico, nel senso che intuitivamente il significato di meta-analisi, di effect size, non è detto che sia immediatamente comprensibile a tutti. Noi cercheremo oggi di appunto dare un significato a questi termini e soprattutto, quello che per noi più conta, capire perché questo tema ha una rilevanza rispetto al discorso che stiamo sviluppando sulla didattica efficace. Inizierò, introdurgo io il tema sulle meta-analisi, per poi cedere la parola appunto a professor Trinchero, che ci spiegherà un po' come interpretare il significato, i valori che ritroviamo poi nelle tante citazioni che abbiamo fatti in questi webinar dell'effect size, di questo indice statistico. Nei webinar che hanno preceduto questa giornata, questo mercoledì, avrete probabilmente sentito più volte citare centri di ricerca, prodotti da ricerca scientifica, che hanno messo in luce l'efficacia maggiore o minore di determinate strategie didattiche. È stato citato nel primo incontro sulle business by education il lavoro portato avanti, ad esempio, dall'Education Endowment Foundation, di cui qua è presente una screenshot al loro sito web, in cui questo Teaching and Learning Toolkit viene presentato agli insegnanti diciamo un database sull'efficacia di diverse variabili sugli apprendimenti. Abbiamo citato più volte il lavoro di Atti, questo ricercatore neozelandese, che ha condotto una vastissima analisi di studi empirici sull'efficacia di centinaia di variabili sugli apprendimenti e qua in questo altro sito, di cui c'è presente lo screenshot nella slide, Visible Learning Metaxe, vediamo il riferimento appunto a tutta una serie di variabili relative alla professionalità dell'insegnante e vedete nelle colonne, vedete, in terza colonna, numero di meta-analisi e un pochino più avanti appunto il valore di FX-size. Ecco, cercheremo di capire oggi che cosa sta dietro queste fonti, oggi ricchissime per il mondo della scuola, che indicano quali sono mediamente, tendenzialmente, le strategie, le variabili che, come dire, appaiono, avevano un impatto maggiore rispetto agli apprendimenti. Sarebbero tante le fonti da citare, andiamo velocemente, Evidence Forresta, che è un bellissimo prodotto di ricerca che mi permette di richiamare proprio il lavoro di Professor Slevi, citato dal Professor Trinchero, che è un database che presenta una sintesi dei valori di efficacia rispetto a numerosi programmi destinati a migliorare gli apprendimenti in matematica, apprendimenti nella lettura, eccetera. Devo dire che, appunto, questa giornata ci preme appartemente in modo ricordare Professor Slevi perché è stato, in tutti questi anni, uno dei padri del metodo delle meta-analisi in educazione. In particolare, ha sviluppato un approccio, che è quello delle Best Evidence Synthesis, che è un particolare approccio, appunto, agli studi di meta-analisi, che stanno proprio dietro a questi risultati di ricerca che oggi permettono a qualsiasi insegnante del mondo, appunto, di informarsi rispetto alle evidenze disponibili sull'efficacia di differenti strategie didattiche. Devo dire che non ha avuto mai il piacere e l'onore di conoscere personalmente Professor Slevi. È stato così gentile, cortese, generoso e disponibile da scrivere la prefazione a uno degli ultimi libri che, proprio sui temi della matematica, incentrata, abbiamo pubblicato qua in Italia. E questo dovuto, in realtà, non sicuramente a me, ma al rapporto, invece, di collaborazione che da anni, la collega Marta Pellegrini, ha intrattenuto con la Junotis University, anche il centro di ricerca, guidato appunto da Professor Slevi. Un'altra, qua c'è un'interferenza, un'interferenza sull'audio. Dicevo, questo Evine Forest è appunto un database che, frutto del lavoro dell'equipe guidata da Professor Slevi, la collega Marta Pellegrini, lo Stato di Firenze, ha avuto, credo, il piacere e l'onore di collaborare in tutti questi anni, portando in Italia le risultanze di quelle che sono appunto le ricerche condotte dall'equipe di Professor Slevi. Allora, cosa sta dietro tutte queste fonti, oggi disponibili online, che permettono appunto di avere, di disporre, di conoscenze affidabili circa l'efficacia di differenti opzioni didattiche? Dietro questi centri c'è un lavoro di sintesi dei risultati della ricerca empirica internazionale, ossia ci sono dei metodi, e in particolare la metanalisi è uno dei metodi chiave utilizzati in questi centri per sintetizzare i risultati pubblicati in più studi primari sull'efficacia di differenti strategie, programmi, approcci didattici. La metanalisi è un metodo di sintesi della ricerca. Pertanto è un metodo che appartiene a tutta una famiglia di metodi, il cui obiettivo è quello di integrare, di fare una rassegna e integrare i risultati di più studi empirici al fine di pervenire a una generalizzazione delle loro conclusioni, ossia si raccolgono tutti gli studi empirici disponibili su un dato problema di ricerca, li si seleziona in modo rigoroso sulla base ad esempio della qualità metodologica che li contrassegna e poi si fa un lavoro di triangolazione, di comparazione di questo grande corpus di dati disponibile per valutare in termini comparativi quali strategie di dati che sono più efficaci rispetto a determinati obiettivi di apprendimento in determinati contesti e le metanalisi, dicevo, fanno questo tipo di lavoro distinguendosi da altri metodi sintesi per la loro natura prettamente statistica, ossia compiono una sintesi dei risultati quantitativi di più studi empirici su un dato problema di ricerca. Nel momento in cui affermiamo che tali metodi hanno come mira quello di pervenire appunto a una generalizzazione delle conclusioni per sviluppare il più possibile e produrre conoscenze affidabili sul mondo dell'istruzione, implicitamente ammettiamo anche che con tali metodi vadano, come dire, precisati i confini, i limiti di tali generalizzazioni. Provo a fare un esempio pratico e, perdonate, anche molto banale. Se ho condotto un lavoro di sintesi di tutti gli studi che hanno indagato l'efficacia di una determinata strategia didattica sulla comprensione del testo, ad esempio, e ho raccolto mettiamo 50-60 studi che in modo sperimentale hanno valutato l'efficacia di quella strategia didattica per la comprensione del testo. È noto che 40-45 studi, cioè quasi la totalità degli studi su quelli considerati, sono tutti focalizzati sulla scuola primaria. Questo mi permetterà sicuramente di arrivare a delle conclusioni più fondate sull'efficacia di tale strategia nella scuola primaria per lo sviluppo della comprensione del testo, ma allo stesso tempo dovrò riconoscere un po' i limiti di tale conoscenza e, ad esempio, sulla generalizzabilità di tali concludori rispetto ad altri cicli di istruzione a studenti di altra fascia di età. Allo stesso tempo, ammettiamo che il corpus di dati disponibili sia tutto concentrato in studi che appartengono a una determinata area non solo geografica ma anche culturale e questo mi può porre, come dire, delle riflessioni critiche riguardo all'applicabilità di tali conoscenze in contesti differenti. Perciò sono metodi che cercano di pervenire a conclusioni affidabili di ciò che sappiamo sull'efficacia di differenti, appunto, opzioni didattiche. Questo a che fine? Principalmente due finalità. Da una parte informare e orientare gli sviluppi futuri della ricerca, ossia conduco una meta-analisi, ossia una sintesi statistica dei risultati di più studi primari per sottoporre al riscontro una determinata ipotesi sull'efficacia di una data strategia X rispetto a un obiettivo di apprendimento Y in un determinato contesto. E anche valutare il grado di affidabilità dell'ipotesi, in ragione di che cosa? Della qualità e della quantità, ad esempio, delle evidenze disponibili. Abbiamo ipotesi rispetto alle quali abbiamo un numero ancora limitato di studi disponibili o abbiamo studi disponibili che tuttavia, come dire, presentano determinati limiti anche metodologici e abbiamo altre ipotesi invece ormai sostenute, diciamo, con una buona, un buon corpus di evidenze ai quali possiamo guardare con, diciamo, sufficiente fiducia, tolto che sicuramente poi la ricerca ha sempre l'obiettivo proprio di sviluppare nuove conoscenze. Però possiamo dire che allo stato attuale delle conoscenze disponiamo di ipotesi affidabili su differenti variabili che influiscono sui processi di apprendimento. E tante di queste ipotesi sono state presentate e discusse proprio nei precedenti appuntamenti con i webinar del mercoledì di sabbia che troverete, peraltro, ancora visualizzabili attraverso la pagina YouTube della nostra associazione. Allo stesso tempo, questi studi di sintesi, come quelli delle metanalfi, ci permettono anche di orientare la ricerca futura verso le piste più promettenti, cioè andare a vedere laddove raccogliamo prime indicazioni di efficacia, ma dove non abbiamo ancora un supporto sufficiente di dati empirici rigorosi per poter raggiungere a delle conclusioni sufficientemente affidabili, perciò si aprono quelle piste di ricerca verso cui indirizzare futuri sforzi, impegni e risorse per poter, appunto, raccogliere ulteriori evidenze per corroborare o confutare tale ipotesi. Ma l'altra dimensione è quella che poi, su cui ci siamo più spesi probabilmente qua, attraverso le iniziative di sabbia, informare la pratica professionale, ossia informare chi lavora nel mondo dell'educazione più generale, nel mondo della scuola più in particolare, su quali sono appunto le strategie che allo stato attuale delle conoscenze risultano più efficaci rispetto a dati obiettivi in dati contesti. Sappiamo, e l'abbiamo detto più volte, che queste non possono costituire delle ricette da applicarsi meccanicamente nella scuola. Sappiamo che una strategia che ha registrato nella sperimentazione internazionale, risultati promettenti non necessariamente e per svariate ragioni possa ottenere sempre i medesimi risultati in qualsiasi contesto che ha applicato. C'è sempre un lavoro di adattamento delle evidenze, c'è sempre la possibilità che determinati fattori contestuali condizionino l'efficacia di una o l'altra strategia. Però la ricerca può darci un qualcosa e grazie a questi metodi oggi ci fornisce attrezza a chi lavora nella scuola con tutto un bagaglio di conoscenze metodologicamente fondate a cui possiamo guardare con fiducia, perché sono il frutto appunto di metodi di analisi ripetuti, rigorosi e sul cui abbiamo oggi appunto un corpus di conoscenze piuttosto ampio. E allora questa è un po' anche la mission in cui si riconosce l'Associazione Sappia, quella di fare un po' da ponte tra i migliori risultati della ricerca scientifica e la pratica professionale degli insegnanti, la pratica di un dirigente scolastico, cioè il lavoro quotidiano nella scuola. In altre parole potremmo dire che si lavora nella direzione di ridurre il più possibile quel gap che purtroppo tradizionalmente ha separato il mondo della ricerca dal mondo della scuola. E a questo proposto, per un'introduzione su questo, vi rimane appunto a uno dei precedenti appuntamenti dei webinar di Sappia, quello di introduzione all'Evidence by Education. Perciò metodi sintesi della ricerca sono tutti metodi, abbiamo detto, che fanno questo lavoro di triangolazione, comparazione e sintesi dei risultati di più studi primari. La metanalisi specificamente è un insieme di tecniche che fa questo tipo di lavoro in termini statistici, cioè su dati quantitativi, vedremo poi producendo che cosa, a che fine orientare la ricerca futura e informare le pratiche professionali, ossia mettere nel piatto di chi lavora tutti i giorni nella scuola, delle conoscenze a cui fare affidamento per prendere decisioni nel proprio contesto, prendere decisioni più consapevoli, più informate nel proprio contesto. In letteratura troverete spesso tutta una serie di denominazioni e attività di metodi, questo è quello che avete visto più spesso nominare anche nei precedenti nostri incontri, quello delle revisioni sistematiche e meta-analisi. La revisione è stata anche su due metodi che hanno dei punti di convergenza, dei punti in comune per la gran parte, entrambi sono metodi che fanno questo lavoro di sintesi in modo rigoroso sulla base di protocolli standardizzati, garantendo il più possibile la trasparenza nell'applicazione di tali protocolli e la distinzione chiave sta proprio nel fatto che la meta-analisi in termini propri conduce a questo lavoro facendo una sintesi statistica dei risultati degli studi primari. Per questo motivo le meta-analisi potrete trovarle come impiegate, applicate o, come dire, singolarmente, faccio una sintesi statistica dei risultati di più studi, oppure integrate alle revisioni sistematiche, che se volete è un metodo più generale, che può integrare studi anche di natura qualitativa e che spesso è appunto integrata anche per la parte più quantitativa da tecniche di meta-analisi. Le meta-analisi che sono proposte come metodo appunto di analisi di analisi da parte, in una pubblicazione ancora in celebre, nella letteratura in questo campo, l'articolo di Glasse del 1976, che definisce le meta-analisi una analisi di analisi, un'analisi statistica di una larga raccolta, una grande raccolta di risultati derivanti da singoli studi. E proprio Glasse dà origine a tutti gli sviluppi che hanno condotto poi più ricercatori, Sleville è stata una delle voci più autorevoli in questi anni al riguardo, a lavorare in questa direzione per far cosa? Per capitalizzare le conoscenze che la migliore ricerca scientifica internazionale stava producendo rispetto appunto a problemi concreti, a questioni pratiche nel mondo dell'istruzione, dell'educazione più generale. Una meta-analisi a che tipo di problemi di ricerca tipicamente risponde? Beh, tipicamente ha due tipi di problemi di ricerca, o problemi di natura, potremmo dire correlazionale, o problemi di natura causale, ossia conduco una meta-analisi per cercare di capire se c'è una relazione tra due variabili, oppure conduco una meta-analisi per vedere se c'è una relazione, diciamo, di causa-effetto con tutte le cautele che un'affermazione simile necessità in ambito educativo tra una variabile causa, una variabile indipendente, e una variabile che potremmo chiamare l'effetto, la variabile indipendente. Ecco, essendo sintesi di natura presente statistica, tipicamente rispondono a problemi di ricerca di questa natura, o correlazionale o causale. E per dare un'idea pratica del tipo di problemi che vengono affrontati nella meta-analisi, ho portato due esempi tratti da uno dei database che chiunque lavora nel mondo dell'educazione dovrebbe conoscere, quello è l'esempio della Campbell Collaboration, che pubblica in modo accessibile, gratuito e libero, appunto le sintesi dei risultati su differenti questioni di grande rilevanza per il mondo dell'educazione. In questo caso, il lavoro pubblicato a Campbell Collaboration è relativo ai preditori in età prescolastica delle abilità di comprensione del testo. Ossia, qual era l'obiettivo di questa sintesi di ricerca? Sintetizzare, per l'appunto, i risultati di ricerca disponibili sulla correlazione tra preditori in età prescolastica delle competenze di lettura e successivo sviluppo delle abilità di comprensione del testo. Qual è la finalità pratica, quella di, diciamo più, la finalità di informare i professionisti dell'educazione di un lavoro di questo tipo? Se io riesco a riconoscere, attraverso studi rigorosi, che determinati fattori in età prescolastica fungono da preditori, cioè mi permettono, se volete dirne altri termini più intuitivi, di capire in anticipo chi poi nella scuola primaria potrà avere un ritardo o delle difficoltà nelle competenze di comprensione del testo, beh, questa informazione per un insegnante, una scuola, questa è estremamente preziosa, perché puoi già identificare, con funzionalità diagnostica, all'ingresso nella scuola primaria, quegli studenti che necessitano immediatamente di una attenzione particolare, di interventi mirati, per evitare l'insorgere di difficoltà sulla comprensione del testo nello sviluppo che questi bambini avranno nel corso della scuola primaria. Partiamo da un problema tecnicamente, diciamo, di natura correlazionale, associazione tra determinate variabili, in età prescolastica e competenze di comprensione del testo successivamente, per dare un'informazione spendibile nella pratica a chi lavora nella scuola. Cosa faccio in questi casi? Raccolgo tutti gli studi che hanno condotto delle analisi di questa natura, cioè volte a rispondere alla domanda quali sono i preditori in età prescolastica delle successive difficoltà nelle competenze di comprensione del testo e sulla base di una sintesi statistica di questi dati riesco a vedere appunto quali di quali fattori impattano maggiormente su tali criticità, su tali difficoltà. Allo stesso modo, per darvi ancora appunto un'idea pratica e non veramente teorica di problema di natura correlazionale, ho tratto un'altra sintesi sempre dal medesimo database, che continuo a raccomandare, quello della Kappell Collaboration, intitolato The Tools of the Mind Curriculum for Improving Self-Regulation in Early Childhood. Di cosa si tratta in questo caso? Qual è il problema di ricerca a cui questa sintesi vuole dare una risposta? Sintetizzare le evidenze sull'efficacia di un determinato programma che si chiama Tools of the Mind nel promuovere le capacità di autoregolazione degli apprendimenti nei bambini e determinate competenze scolastiche. In questo caso che cosa faccio? Sintetizzo i risultati di tutti gli studi che hanno valutato in modo rigoroso l'efficacia di questo specifico programma che si chiama Tools of the Mind, è un programma che eredita tutta la tradizione vigoschiana applicata poi appunto nella promozione delle competenze di autoregolazione degli apprendimenti per valutare se tale programma, come dire, effettivamente ha un impatto sulla autoregolazione degli apprendimenti nella prima infanzia. problema di natura causale dove, se volete, ancora forse un po' io, ripeto, con le giuste cautele, la causa, la nostra variabile indipendente e il programma Tools of the Mind e l'effetto che stiamo studiando, la nostra variabile indipendente, sono le competenze, le capacità di autoregolazione degli apprendimenti e le skill scolastiche, le abilità scolastiche. Per dare una risposta a domande simili arriviamo a vedere come si procede, pur in estrema sintesi, nel condurre appunto un lavoro di questo tipo. Si parte dalla formulazione di un problema di ricerca come quelli che vi ho appena esemplificato, un problema che abbia una anche chiara rilevanza per la pratica professionale, perché abbiamo detto essere dei metodi alle quali riconosciamo come finalità principale quello di informare chi deve prendere decisioni in ambito scolastico. Formulazione di un problema, ben chiaro, in cui le variabili sono ben definite, che abbia una rilevanza per la pratica. Definizione del protocollo di sintesi. Cosa significa? Che proprio per ragioni di trasparenza, di replicabilità dello studio, di controllabilità dello studio, di controllo di determinati bias, cioè di quegli errori sistematici che possono condizionare per venire a delle conclusioni della ricerca, preliminarmente al lavoro di sintesi vero e proprio, io definisco tutta una serie di elementi che caratterizzeranno le mie scelte metodologiche per la produzione della meta-analisi. In modo che altri ricercatori possano controllare che cosa ho fatto, possono controllare la correttezza delle mie conclusioni, possano implementare e replicare e incrementare i miei risultati partendo da quel protocollo, ad esempio, riapplicandolo rispetto a fasce di età differenti, così arricchendo quello che sono state le mie acquisizioni attraverso il lavoro di sintesi. Definite e rese trasparenti e esplicite tutte le regole che io mi do nella definizione, nella conduzione del lavoro di sintesi, si passa alla ricerca della letteratura, selezionando solo quegli studi che rispettano i criteri che ho definito nel protocollo di sintesi, di quei criteri che sono mirati a raccogliere e selezionare solo quegli studi che, uno, sono esattamente pertinenti e ben centrati sul problema di ricerca che sto affrontando e, due, rispettino tutta una serie di requisiti a cui qualsiasi ricerca che voglia essere scientifica deve rispondere, cioè che sia faccio lavori metodologicamente seri. Una volta che ho selezionato gli studi, cosa faccio? Io codifico i dati, cioè recupero dall'insieme di tali studi tutti quei dati che possono essere utili per venire poi a delle conclusioni che hanno anche una rilevanza pratica. Perciò questi studi, che fascia di età non gli studenti, la popolazione, che tipo di disegno di ricerca è stato applicato, che tipo di misure sono state utilizzate, in che modo sono state intese la valutazione degli apprendimenti, tutti quegli elementi che ritroviamo negli studi primari che ci servono appunto per poter poi ragionare sull'efficacia o meno di quella strategia applicata in determinato modo in un determinato contesto. Una volta che ho raccolto tutti questi dati si passa alla fase di analisi e integrazione di tali risultati, quel processo di triangolazione che ho citato all'inizio. Vado a leggere questi dati in termini comparativi per vedere se questi studi concordano su determinate conclusioni, sull'ipotesi di efficacia da cui sono partito, oppure discordano, in che misura discordano, tali discordanze a che cosa sono dovute. Ecco, questa è la fase centrale poi per una meta-analisi in cui vado a fare questo tipo di lavoro in termini statistici, facendo che cosa? Ad esempio, ed è uno dei primi risultati che viene messo in luce di una meta-analisi, calcolando quello che si chiama l'effect size, in italiano è anche detto dimensione dell'effetto o ampiezza dell'effetto, ossia un indice statistico che misura quanto una determinata variabile ha avuto un impatto su un'altra variabile. O, in altri problemi di natura correlazionale, può misurare, può dare una misura quantitativa della forza della correlazione tra due variabili. Rispetto agli esempi che abbiamo detto, l'effect size potrebbe essere utilizzato per misurare quanto determinati predatori sono in relazione, quanto forte la relazione tra determinati predatori è il successivo sviluppo di competenze di comprensione del testo, mentre nel secondo problema, quello sul programma Tools of the Mind, vedere quanto il programma Tools of the Mind è in grado di determinare un miglioramento degli apprendimenti. Oltre a questo, come detto, vado a vedere anche se questi studi sono concordanti o meno, se i risultati perciò sono fondamentalmente omogeni, tutti diciamo vicini, se volete, al valore di effect size medio, oppure se sono molti eterogeni, capire perché sono eterogeni. Ecco, su questa parte in particolare, in realtà, sul discorso dell'effect size, per capire bene l'effect size, poi tra pochissimo lascerò la parola a questo trinchero che ci permetterà di entrare direttamente nel significato e nel valore anche pratico del calcolo di tali indici. A questo punto, con tutto questo bagaglio di dati e risultati in mano, devo cercare di tradurre questi in qualcosa che abbia una rilevanza, appunto, per chi lavora nella scuola. Cioè, qual è il significato pratico di questi risultati? Qual è la forza di queste evidenze? Qual è il grado di affidabilità di queste evidenze? Quale indicazioni operative ne posso trarre, che posso mettere a disposizione di chi deve prendere decisioni in contesti scolastici? Fino ad arrivare, così, alla fase di stesura del rep o della meta-analisi. Ecco, questo è un po' il processo, il flusso di lavoro di una qualsiasi meta-analisi. La meta-analisi, come detto, si concentra in particolare proprio su questo aspetto delle tecniche di analisi statistica dei risultati, di quello su cui, appunto, poi lascerò la parola al collega professor Trinchero. Sono questi gli elementi centrali in ogni lavoro di meta-analisi. I passaggi sono questi. Il primo, vado a calcolare in ogni singolo studio che ho selezionato qual è l'effetto registrato, l'effect size di ogni singolo studio. Faccio io un insieme di studi, uno, due, tre, quattro, cinque studi, e per ciascuno di essi vado a calcolare qual è l'effetto registrato in quello studio. Per arrivare a quello che è un effect size globale, una media degli effect size di quegli studi non è una media aritmetica, è una media ponderata a cui si perviene attraverso, si perconda degli autori, differenti modelli di analisi statistica che hanno delle funzioni differenti alle spalle, per cui non mi addentro adesso, a una media ponderata degli effetti registrati nei singoli studi. Ponderata fondamentalmente in termini più intuitivi, in base a che cosa? In base alla rilevanza, al peso di quello studio. Uno studio che, ad esempio, è stato condotto su un campione di 60 studenti avrà un peso minore rispetto a uno studio che è stato condotto con 5.000 studenti. Sulla base di criteri definiti che mi portano ad attribuire un maggiore o minore peso ai singoli studi, io vado a calcolare semplicemente una media degli effetti registrati nei singoli studi, una media, come detto, ponderata, che mi permette di arrivare al primo risultato che viene portato subito alla luce di una meta-analisi, il valore di effect size, ossia quanto grande è l'effetto prodotto da quella variabile sul nostro effetto calcolato. Una volta che sono andato a calcolare l'effect size, l'effetto globale, il secondo problema che mi devo porre è cercare di capire se i risultati, se i studi siano fondamentalmente tutti omogeni, cioè i studi sono concordanti nel riconoscere a questa variabile un effetto pari a 0,30 o giù di lì, oppure se trovo effetti con risultati molto diversi tra di loro, uno studio che ha 0,40, uno 0,20, uno meno 0,10, eccetera, eccetera. Allora, se sono di fronte a una situazione di eterogenità, devo cercare di capirla. E qua, in questo tipo di analisi, da questo tipo di analisi derivano anche le implicazioni pratiche per chi lavora nella scuola più importanti, perché attraverso questo studio, quello studio dei moderatori, sono in grado di risalire quali sono quelle variabili nell'applicazione della strategia didattica che sto indagando, che sono in grado di massimizzare l'efficacia dell'intervento. Ecco, questo è un po' la presentazione di che cos'è una metanasi. Ovviamente una presentazione, si rende sommaria, di estrema sintesi, ma che vuole dare un po' il significato di che cosa c'è dietro tutte quelle evidenze, quelle affermazioni, su cui ci siamo basati in questo ciclo di webinar che stiamo conducendo. Devo dirvi che FX-Size non rappresenta un solo indice statistico, ma rappresenta una famiglia di indici statistici applicati ciascuna seconda di determinate caratteristiche poi degli studi che stiamo trattando, ma sono tutti accomunati fondamentalmente da questa natura, la rappresentazione quantitativa della grandezza di un effetto della forza di una relazione. Non mi addentro oltre su questo aspetto, perché proprio su questo e su qual è anche il significato pratico di tal indice, lascio la parola a Professor Trinchero. Benissimo, grazie Giuliano. Allora, se mi passi la possibilità di condividere... Segna ospita, ecco qua. Ok, benissimo. Allora, aspettate un attimo che ho preparato alcune slide. Allora, condividiamo la presentazione. Grazie Giuliano per l'introduzione che hai fatto sulle metanasi, che mi è sembrate molto utile e siamo anche molto chiarificatrice. Allora, lo pronunciava già il professor Vivanet, parleremo adesso di F-Size più nello specifico. Quindi, allora, F-Size è una misura dell'effetto, ma cosa vuol dire in pratica? Allora, l'F-Size è un indice che serve a riflettere sull'efficacia delle pratiche di insegnamento e apprendimento. Come? Allora, vediamo alcune definizioni interessanti. Allora, ecco, l'F-Size è la misura dell'ampiezza dell'effetto di un dato fattore, ad esempio l'uso di mappe concettuali per lo studio, su un altro fattore che viene considerato dipendente, ad esempio le conoscenze e abilità raggiunte dall'allievo in una certa disciplina. Quindi, misura quanto incide un fattore su un altro fattore. Questo è molto interessante perché ci fa capire come possiamo utilizzarlo in studi correlazionali, quindi studi che vanno a calcolare qual è la correlazione fra due fattori, oppure studi sperimentali, quelli che vanno a modificare un fattore per vedere in quale modo varia un altro fattore in relazione al primo. Rappresenta quindi la quantificazione della forza di un fattore su un altro e ci dà modo quindi di comparare delle evidenze differenti e scegliere gli interventi più adeguati per i nostri scopi. Allora, l'ho trovato in letteratura, ecco tipicamente citato in questo modo. Allora, qui ho preso un brano che si può trovare da un articolo che è presente su web. Allora, vedete come nel discorso spesso si cita delle evidenze e si cita anche il corrispondente F-Size che deriva da una metanasi come quella che ci ha presentato il professor Vivanet prima. Ok? Cioè, questa è la fonte bibliografica, questa è l'evidenza e a fianco a un'opportuna indicazione della misura di F-Size. Ok? Quindi in questo caso l'evidenza è gli interventi volti a migliorare le strategie di studio hanno un'efficacia molto elevata per migliorare il successo degli allievi. F-Size 0,59. Allora, il termine stesso F-Size è molto utile se volete cercare delle evidenze in rete. Se io devo trovare delle evidenze relative a una certa cosa, ad esempio all'efficacia delle mappe concettuali dello studio, all'efficacia del costruire autospiegazioni per migliorare la propria capacità di apprendere. Allora, in quale modo faccio? Beh, io posso cercare il termine F-Size perché so che quello che troverò sarà in qualche modo l'esito di una meta-analisi. Ok? Quindi una buona procedura è quella di utilizzare Google Scholar e se non si trova nulla con Scholar utilizzare Google Generalista, ma su appunto Scholar si trovano diverse gli esiti di appunto diverse meta-analisi decisamente utili. Poi, formulare le parole chiave con la giusta precisione più parole chiave pertinenti sono presenti, di più sarà focalizzato il materiale che voi troverete e usare sempre delle virgolette per delimitare il campo di ricerca, inserire le parole F-Size tra virgolette dopo il set di parole chiave inserite in modo da trovare articoli che si rifacciano esplicitamente alle finali del label, quindi che vi diano delle evidenze che sono l'esito delle meta-analisi che voi avete trovato. E poi vi consiglio di cercare con delle parole chiave in inglese, perché purtroppo è il mondo anglosassone che ha molto lavorato sulle meta-analisi, quindi buona parte del pubblicato è ancora in inglese, quindi lo troverete in lingua inglese e vi consiglio quindi di utilizzare le parole chiave in inglese se volete trovare quello che vi serve. Quindi fare una ricerca del tipo apprendimento cooperativo e evidenza su Google è scarsamente efficace perché trovate un sacco di cose che non c'entrano assolutamente nulla. Meglio una ricerca fatta secondo questo metodo. Ad esempio Jigsaw Method, tra virgolette, evidence e poi F-Size, tra virgolette, perché così voi trovate effettivamente quello che vi serve se volete lavorare sul Jigsaw Method, se avete bisogno di capire quali sono le evidenze che vi danno le prove di efficacia del Jigsaw Method in diversi contesti. Allora, vi ho accennato il professor Vivanet di come si calcola F-Size e vi ho presentato una tabella. Vediamo adesso di esploderla in modo più particolareggiato. Allora, intanto, cerchiamo di definire una situazione tipica di fronte alla quale voi vi sarete trovati, quella di una ricerca sperimentale. Allora, quindi voi avete un gruppo sperimentale, probabilmente avete un gruppo di controllo, non sempre è presente, però nei buoni disegni sì, e voi, allora, sulla base di questo disegno di ricerca volete trovare l'F-Size del fattore sperimentale, andandolo magari confrontare con quello di un fattore ordinario che viene applicato su un gruppo analogo a quello sperimentale. Allora, quali sono le misurazioni che bisogna fare? Beh, allora, sicuramente bisogna fare un test finale, perché bisogna definire un punto di arrivo, cioè dopo aver applicato il fattore sperimentale, ma molto importante fare anche un test iniziale, aver fatto prima un test iniziale. Questo è perché già la differenza tra il punto M2 ed il punto M1 vi dice molto su qual è l'incremento che ha portato il fattore sperimentale, su qual è il cambiamento dalla situazione iniziale a quella finale che si può imputare al fattore sperimentale. Se voi avete tenuto sotto controllo, gli altri fattori intervenienti, ovviamente. Oppure potete fare una cosa differente. Se voi avete anche un gruppo di controllo ed è sempre la situazione migliore, voi potete definire la media del cambiamento, cioè tra il test iniziale e quello finale, per i vari soggetti che hanno partecipato allo studio, e potete andarla a confrontare con la media del cambiamento che ha ottenuto il gruppo che ha frequentato l'intervento con il fattore ordinario. Quindi la differenza tra il test iniziale e quello finale per il gruppo che ha frequentato l'intervento ottenuto con il fattore ordinario. E quindi il confronto viene fatto tra queste due medie. Una M1 che è il cambiamento del gruppo sperimentale e una M2 che è il cambiamento del gruppo di controllo. Allora, vedete come c'è il percorso rosso, il percorso rosso è quello utile quando noi stiamo lavorando con un solo gruppo e non è la situazione ottimale, oppure il percorso blu che è quello utile quando stiamo lavorando con due gruppi, un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Allora, quindi, se questa è la situazione, se siamo in una di queste due situazioni, ecco, l'effet size è una misura standardizzata della distanza tra due medie rilevate su un gruppo unico che è testato in tempi differenti, è il percorso rosso che abbiamo visto, oppure due gruppi dove M1 e M2 sono le medie dei due cambiamenti provocati dal fattore sperimentale e da quello di controllo. Ok? Allora, ecco, l'effet size è appunto un indice, se lo accennava già il professor Vivanet, che dà l'idea della distanza che c'è tra il punto 1 ed il punto 2, tra la media 1 e la media 2 e la divide per S, uno scarto tipo, una deviazione standard. Cosa vuol dire? Beh, lo vedremo dopo in modo particolareggiato, ma ecco, S è proprio il parametro su cui si giocano buona parte delle differenze tra i vari modi per trovare un f-size. Allora, l'idea qual è? Cioè, l'idea è questa. Vedete che qui vi ho riprodotto la tabella che vi ha già in qualche modo dato il collega Vivanet. Allora, andiamo a vedere nello specifico come si comportano i vari indici e quali calcoli prevedono i vari indici. Ad esempio, il delta di Glass cioè, è un indice che si limita a rapportare la differenza tra la prima media e la seconda media allo scarto tipo che è relativo all'M2, cioè al gruppo di controllo. Ok? Si fa l'ipotesi che il gruppo di controllo sia un gruppo che ha avuto una bassa perturbazione, cioè quindi che lo scarto tipo del gruppo di controllo sia in qualche modo vicino a quello che avremmo avuto in condizioni normali e quindi facciamo il calcolo della f-size utilizzando lo scarto tipo, cioè la deviazione standard del gruppo di controllo. Il DdCoin che invece è l'indice più utilizzato, cioè con rapporto alla differenza tra le due medie allo scarto tipo congiunto, si chiama pooled standard deviation, quindi è uno scarto tipo che tiene conto degli scarti tipo di entrambi i gruppi e viene aggregato sulla base della formula che trovate. Il GD Edge è una ricodifica del DdCoin che è adatta per campioni piccoli, cioè per campioni che hanno meno di appunto 20 casi ed è appunto necessario perché si è visto speparimentalmente che con dei campioni piccoli il DdCoin diventa artificialmente grande, tende a diventare grande anche in presenza di una bassa differenza tra le medie. Allora, la cosa che è importante che sia chiara per tutti è che è sempre presente per tutti questi indici che noi abbiamo visto cioè qui ve lo do per il DdCoin un intervallo di fiducia con un certo livello di fiducia che può essere il 95% per esempio che ci dice all'interno di quale intervallo è situato il valore vero della popolazione di quel parametro chiaro? Quindi c'è un margine di errore e questo margine di errore corrisente di un errore standard che si calcola per il DdCoin secondo la formula che trovate qui. Quindi allora quando voi avete un valore puntuale dell'effet size ecco ricordatevi che è semplicemente il valore centrale di un intervallo di fiducia che a seconda del numero dei casi perché vedete che l'errore standard dell'intervallo di fiducia dipende dal numero dei casi a seconda del numero dei casi su cui è stato effettuato il calcolo può essere più o meno ampio quindi è molto importante fare questi lavori su dei campioni ampi ma per quale ragione? Per via del fatto che stiamo riducendo il margine di errore e quindi abbiamo più precisione nella stima dell'effet size sempre tenendo conto che quello che stiamo trovando è un valore di media anche questo è molto importante sottolinearlo perché? Perché noi stiamo ragionando sulla media di diversi cambiamenti lo vedete bene dalle formule proiettate sulla slide quindi quali sono le precauzioni che bisogna usare quando si usa l'indice di effet size? Allora ci sono diversi modi per calcolare la stima dello scarto tipo aggregato cioè quindi a seconda di come voi stimate lo scarto tipo aggregato voi avete effet size che sono calcolati in modo differente se vi prendete i lavori di Marzano e collaboratori appunto fatti una ventina di anni fa trovate anche lì un calcolo di effet size ma non è comparabile con il lavoro di etti perché previa il fatto che usano un'altra formula per trovare appunto l'effet size e quindi allora i due valori non sono tra di loro comparabili ok gli effet size però che sono ottenuti con la stessa modalità di stima sono comparabili quindi voi potete fare delle comparazioni solo con degli effet size che usano le stesse formule queste le potete fare anche su degli studi differenti e questo è il grosso vantaggio che ha questo modo di lavorare cioè voi potete prendere studi fatti da ricercatori differenti cioè o meta analisi fatti da gruppi differenti e potete fare delle comparazioni perché perché se il metodo di calcolo è lo stesso quell'indice che voi trovate si può comparare anche tra studi differenti gli effet size quindi sono sempre accompagnati da un intervallo di fiducia e questo non dovremmo dimenticarlo perché vedremo poi un esempio pratico cioè se non si tiene conto dell'intervallo di fiducia a volte si rischia di fare anche degli errori abbastanza grossolani allora l'effet size fornisce sempre un dato di media e questa è un'altra precauzione di cui bisogna tenere conto nel senso che noi non stiamo dicendo che quei risultati sintetizzati dall'effet size sono validi per tutti quanti i soggetti stiamo dicendo che sono mediamente validi per un ampio numero di soggetti e quindi va sempre trattato non come un dato assoluto ma una media ci ricordava già Trilussa che le media a volte traggono in inganno se mediamente un fattore è meno efficace di un altro non vuol dire che se applicato su un dato soggetto non possa rivelarsi più efficace chiaro nel senso che se io so che ad esempio utilizzare le mappe concettuali per lo studio è più efficace rispetto agli interventi di tipo motivazionale ad esempio non è detto che per Gianni non sia più efficace in quel momento fare un intervento sulla motivazione allo studio perché Gianni ha bisogno di quel dato intervento quello che vi possiamo dire è che a prescindere dal caso di Gianni se voi applicate lo stesso intervento su un ampio numero di soggetti mediamente utilizzare mappe concettuali per lo studio fare utilizzare mappe concettuali per lo studio è più efficace che non dare un intervento di tipo appunto attivazionale chiaro quindi uno è mediamente più efficace dell'altro ma non è detto che per ogni singolo oggetto valga la stessa cosa poi se da due head analysis emerge che un fattore è più efficace di un altro non significa che tutte le varie tipologie di intervento ricompresi in quella categoria siano tutte più efficaci rispetto a quelle ricomprese nella seconda categoria proprio perché è un dato di media cioè voi avete un'efficacia media di quel tipo di interventi che è più alta rispetto all'efficacia media di un altro tipo di interventi ma ci potrebbero essere interventi del gruppo più basso che hanno un'efficacia più alta rispetto a quelli che sono meno efficaci e che sono all'interno del gruppo più alto un esempio tipico di questo tipo di situazione è il feedback quando Etty fa la meta-analisi e parla di feedback all'interno della categoria feedback inserisce di tutto ma i feedback sono differenti perché fanno riferimento a strategie differenti a forme differenti a ricompense differenti quindi cosa vuol dire sarebbe meglio andare a vedere al di là dell'efficacia media del feedback che sappiamo essere molto alta quali sono i singoli valori di efficacia per le singole tipologie di feedback che vengono proposti ciò che la meta-analisi mette in luce è sempre una media quindi allora ci dà un'idea di che cosa scegliere ma poi quando noi abbiamo scelto dobbiamo essere consapevoli che quella scelta che noi abbiamo fatto sulla base di quel fattore è una scelta che abbiamo fatto sulla base dell'efficacia media di quella famiglia di fattori dalle meta-analisi che noi abbiamo preso in considerazione ok allora come si legge quindi un F-size allora vi riporto la classificazione di Etti e poi Giuliano forse ci potrà dire qualcosa di più perché non tutti sono concordi anzi gli studiosi hanno delle posizioni appunto differenti Etti dice se un F-size ha un valore superiore a 0,4 in genere da considerarsi molto positivo perché perché lui dice è superiore alla media degli effetti di un alto numero di fattori sul lavoro del 2009 lui prende in considerazione un altissimo numero di fattori vede quali sono gli F-size sulla riuscita scolastica sull'ecipement di un altro numero di fattori e trova un F-size medio per tutti questi fattori che si trova al valore 0,4 e quindi lui stabilisce a 0,4 quello che lui chiama linge point cioè il punto di taglio infatti lui presenta un termometro di questo tipo che voi avrete già sicuramente visto e dice guarda che quando tu hai dei valori molto bassi cioè quando i valori sono inferiori a 0 tu hai un effetto inverso cioè quando tu applichi al dato intervento tu fai disapprendere anziché far apprendere cioè voi di te ma ci possono essere interventi di quel tipo allora negli studi correlazionali che non abbiamo visto in questo intervento sì perché per esempio più voi fate ripetere l'anno quindi più bocciate meno gli studenti apprendono quindi c'è una relazione inversa tra il far ripetere l'anno cioè il far raggiungere un buon successo scolastico agli studenti questo ovviamente dipende anche da una serie di altri fattori non c'è una causalità eretta ma questo è un esempio di una relazione inversa ok poi se il valore appunto è molto basso tra 0 e 0,15 e ti stima che può essere un fattore di sviluppo quindi voi non fate fare assolutamente nulla agli allievi questi crescono da soli per tutta una serie di ragioni e quindi allora voi vi troverete comunque una differenza tra il pre e il post che sta intorno al valore 0,15 cioè i valori tra 0,15 e 0,4 lui gli attribuisce all'effetto del docente quanto può fare un docente con strategie tradizionali per far crescere gli allievi tutto ciò che ha di sopra il 0,4 è quello che è interessante per via del fatto che quella è la zona in cui secondo lui gli interventi sono più efficaci della media di tutti gli interventi che lui ha preso in considerazione in realtà adesso si tende a ragionare appunto in modo diverso cioè però la logica c'è sempre un punto o un range che ci dice se il valore è all'interno di quel range si può dire che l'effetto sia alto se all'interno di un altro range si può dire che l'effetto sia medio se all'interno di un altro range si può dire che l'effetto sia basso allora quali sono le precauzioni nell'uso dell'effet size beh allora dalle meta-analisi spesso emerge un'alta variabilità degli effetti e questo accade cioè anche in relazione al fatto che si fanno magari delle categorie troppo ampie e il discorso del feedback se voi fate una categoria troppo ampie e ci mettete dentro degli interventi che sono troppo eterogenei troverete un'altra variabilità degli effetti più riuscite a fare delle categorie in cui mettete degli interventi che siano effettivamente omogenei che si riferiscono alle stesse cose cioè più questa variabilità si riduce ok cioè ecco non sempre cioè ma questo accade ok quindi studi che considerano gli stessi fattori svolti in contesti differenti con un quadro situazionale differente portano a dei risultati che sono anche radicalmente differenti quindi anche quando tu tieni sotto controllo la natura dei fattori e applichi lo stesso intervento cioè in contesti differenti in situazioni appunto differenti puoi avere dei risultati che sono differenti in quanto intervengono altri fattori e questo si vede dalla variabilità degli effetti che ecco emerge dagli studi quindi importante considerare ecco l'effet size proprio come un'ampiezza media dei vari effetti ricordandosi che è una statistica e come tutte le statistiche va presa con le molle va presa con le molle va costruito bene cioè quindi con un buon discorso metodologico dietro ai singoli studi e alla meta-analisi ma anche bisogna tenere conto della distribuzione che hanno i singoli effetti cioè quindi una descrizione quantitativa delle distribuzioni dei vari effetti presi in considerazione all'interno di quella meta-analisi e anche della loro natura quindi fare anche una descrizione qualitativa dell'effetto e del quadro situazionale in cui è stato prodotto questo questo è quello che ci porta a ragionare sulle best evidence synthesis quindi si fa una sintesi non di tutti gli studi che abbiamo trovato ma soltanto di quelli che abbiamo preselezionato e che rispettano certi criteri di qualità perché questi ci consentono di dire che quello studio è fatto bene sul piano metodologico quello studio lavora effettivamente sul fattore che vogliamo prendere in considerazione e quello studio in qualche modo può essere aggregato insieme ad altri studi che si riferiscono alle stesse situazioni e alla stessa tipologia di interventi adesso per farvi capire bene il senso dell'effetto size proviamo a fare un giochino allora adesso io vi presento una serie di strategie di studio cioè che voi stessi avrete studiato in qualche occasione che voi stessi avrete adottato in qualche occasione nella vostra vita allora non vi chiedo di ordinarle tutte perché non abbiamo tempo quello che chiedo ai miei studenti ma qui non abbiamo il tempo di farlo vi chiedo tra queste strategie di scegliere le tre che secondo voi sono risultate dalle meta-analisi a nostra disposizione più efficaci vi chiedo però di fare un distinguo non vi sto chiedendo quelle che per voi stessi sono più efficaci perché per voi stessi è detto che voi rientriate all'interno del centro della distribuzione potreste anche essere nelle code della distribuzione vi chiedo di cercare di ragionare quali sono secondo voi le strategie che sono più efficaci per la media della popolazione ok allora le strategie di studio sono le seguenti controllare il proprio lavoro prima di consegnarlo al docente e trovare gli errori fare liste di cose da fare quando e come nello studio e seguirle fare una tabella di marcia dello studio con scansione giornaliera fare uno schema prima di scrivere una relazione che sintetizzi i contenuti da studiare immaginare le conseguenze del fallimento nello studio mettere da parte eventi distraenti fino a che il compito da svolgere se non è finito prendere appunti in classe rivedere gli appunti precedenti prima di andare alla lezione successiva scrivere più volte una formula di matematica finché non viene appunto ricordata con facilità studiare con un compagno o con qualcuno che ti possa dare un aiuto nello studio studiare in un luogo appartato o tranquillo tenere un diario dello studio con azioni ed esiti ottenuti utilizzare degli usili mnemonici specifici per ricordare le sequenze di fatti verbalizzare i passi a mettere in atto nel risolvere un problema di matematica bene allora provate a guardarle un attimo io vi do una trentina di secondi scegliete le tre strategie che secondo voi mediamente sono più efficaci per l'intera popolazione di studenti ok vi lascio qualche secondo per ragionare bene e poi vedremo cosa ci dicono le meta-analisi in proposito di spazio di spazio di spazio bene se vi siete fatti un'idea se avete scelto tre strategie cerchiamo di capire quello che ci dicono le meta analisi allora ho preso una meta analisi fatta dall'everi c'è stata da etina sul lavoro del 2009 allora vedete che in questa meta analisi noi abbiamo quelle strategie cioè che io in qualche modo esemplificato nelle frasi che vi ho dato nella slide precedente ok quelle strategie ecco riportano appunto accanto il numero di effetti presi in considerazione cioè quindi il numero di studi che hanno lavorato sul controllo di quell'ipotesi cioè vi è una relazione tra fare uno schema prima di scrivere una relazione che sintetizia i contenuti da studiare e il miglioramento nell'apprendimento cioè e hanno trovato il relativo f size con il relativo errore standard molto importante ok quindi questo è il f size e questo è il suo errore standard ecco vedete che da questa meta analisi che appunto ha fatto l'everi trovate che cioè le tre strategie più efficaci sono apparentemente fare uno schema prima di scrivere una relazione sintetizia i contenuti da studiare quindi riorganizzare i materiali di studi per favorire l'apprendimento ok e mettere da parte eventi ecco distraenti fino che il copito da svolgere non è finito ok e poi verbalizzare i passi che che occorre mettere in atto nel risolvere un problema di matematica bene sono le tre strategie che sembrano essere più efficaci da questa classifica ok però la cosa va presa con le molle perché fate attenzione ad una cosa mentre per la strategia più efficace c'è una certa distanza tra la prima e la seconda e vedete che l'errore standard è appunto abbastanza piccolo quindi siamo abbastanza sicuri che questo intervallo di fiducia non vada non vada a toccare questo per le altre invece non accade la stessa cosa in particolar modo provate a vedere questa no cioè 0,62 l'effet size 0,03 il suo errore standard no ecco vedete che è molto vicino allo 0,60 di questa strategia con 0,05 di errore standard quindi i due intervalli di fiducia tra di loro si toccano sono in parte sovrapposti quindi se dovete fare una classifica ecco dovete sapere che queste strategie che hanno questi valori di f size che sono così vicini di fatto non si può dire che abbiano un'efficacia differente quindi molto importante sempre andare anche a vedere l'errore standard che è associato all'effet size ok allora e qui trovate per la cronaca l'efficacia delle altre strategie quindi potete cercare un po di capire dove vi siete collocati con la vostra previsione ok e questa è la nostra ultima pagina no vedete come studiare in un luogo appartato o tranquillo sembra avere un f size da questa metanalisi molto bassa tenete anche presente che è una conclusione tratta su un basso numero di studi quindi quando il numero di studi è troppo basso cioè probabilmente c'è qualche tipo di effetto che risente anche dal modo in cui gli studi sono stati condotti quindi è un risultato che va preso con le molle ok e vedete infatti che c'è una variabilità più alta data da un errore standard più alto ok bene a questo punto grazie per l'attenzione possiamo interrompere la condivisione e diamo spazio al dibattito diamo spazio alle domande non so se giuliano vuole ancora aggiungere qualcosa sul sui valori di f size ma no direi di lasciare prima spazio alle domande così eh sulla base magari delle curiosità che possano essere in atto e diamo risposte più puntuali poi devo dire c'è un articolo là che era citato nelle slide del professor Trinchero è stato scritto proprio col col collega e con la professoressa Marta Pellegrini in questa differenza dove abbiamo esploso tutte queste argomentazioni che è relativa all'interpretazione delle fake site piuttosto se qualcuno fosse interessato ad approfondire quell'articolo è eh consultabile liberamente in rete eh sulla rivista CPS è già eh citato nelle slide del professor Trinchero perciò posso rimandare anche a quello per ulteriori informazioni. Io avrei una domanda. Prego. Buonasera mi chiamo Daniele Morselli sono ricercatore all'università di Bolzano e mi interessa molto questo discorso dell'effect size che vorrei addirittura provare in uno dei miei corsi con il prima e il dopo. La mia domanda è questa ma questo eh test ecco che cosa potrebbe essere si potrebbe anche pensare a proprio dei contenuti rispetto al mio corso che vorrei insegnare esempio test a crocette oppure dovrebbe essere un test di altra natura ecco per esempio un test psicologico non so ecco ho questo dubbio. Grazie per la vostra disponibilità. Benissimo allora grazie a te per l'interesse verso il seminario. Allora tu puoi praticamente usare il half size su qualsiasi tipo di dato anche perché è una procedura statistica e quindi la puoi applicare a qualsiasi dato raccolto in qualsiasi modo addirittura potresti applicarlo anche nell'ingegneria. Ecco allora bisogna capire bene quali costrutti vuoi misurare? Cioè quali sono i fattori che tu vuoi misurare? Vuoi misurare le conoscenze e abilità che i tuoi allievi hanno prima e dopo il tuo corso su un argomento specifico? Vuoi misurare gli atteggiamenti verso il compito che hanno prima e dopo il tuo corso? Quindi tu devi scegliere un costrutto. Quando hai scelto il costrutto cioè il fattore che vuoi misurare cioè dai al costrutto una definizione operativa oppure utilizzi un test già pronto che fa riferimento a una sua definizione operativa, somministri il test prima e dopo, tu avrai un campione raccolto prima e un campione raccolto dopo, vai a comparare quelle due medie, le rapporti allo scarto tipo della seconda rilevazione o a quello congiunto e lì trovi l'effet size, cioè trovi il tasso di incremento. Se tu hai a disposizione un gruppo di controllo puoi anche fare una comparazione con un gruppo di controllo. Poi se vuoi saperne di più se mi scrivi una mail poi ti do dei consigli anche proprio su come fare la misurazione dei costrutti che ti possono interessare. Ok? Grazie, grazie infinite. Benissimo. Grazie a te. Ok, l'unica precauzione è, cioè l'unica, il fattore derivante è avere a disposizione un dato quantitativo, poi a quel punto puoi applicare sempre una variabile che sia misurata quantitativamente, ecco. Intanto in chat per comodità ho anche proprio linkato l'articolo a cui c'è un riferimento per permettere un più veloce recupero. Se non ci sono altre domande io passerei anche a un'altra seconda domanda, sempre statistica. Mi sono chiesto spesso se questo effect size sia sostitutivo o complementare di altri test, per esempio, non so, il td student. Allora, dunque, il td student, ecco, lavora, cioè tu puoi utilizzarlo in due modi, puoi utilizzarlo o su due popolazioni, cioè su due campioni che appunto vengono da due popolazioni differenti, o su appunto un campione appaiato. Tu hai fatto un test, fai un retest su quel campione e hai una copia di dati appaiati prima o dopo. Allora, il td student è una misura dell'associazione tra il primo test e il secondo test. Ti dice quanto sono associati. Tu puoi utilizzare quel valore che ti viene fuori dal td student come un indice di f size, cioè per via del fatto che anche lì tu stai praticamente rapportando una media prima e dopo, in una situazione 1, in una situazione 2, alla variabilità complessiva. Cioè, si preferisce in genere utilizzare gli indici di cui abbiamo parlato, perché sono indici che ci consentono anche di aggregare dati che vengono da più studi, ok? E quindi tradizionalmente in letteratura tu troverai quegli indici di, quindi tu puoi definirti un tuo indice di f size, addirittura puoi utilizzare una correlazione, una correlazione appunto biseriale, cioè c'è chi lo fa, no? Solo che tu non puoi poi andare a comparare il numero che ti è venuto fuori con i numeri che trovi in letteratura. Quindi ad esempio, tu fai un intervento sulle mappe concettuali, vuoi capire se il tuo intervento ha avuto gli stessi effetti dell'intervento fatto in Nuova Zelanda, no? Cioè, su quel campione là, devi fare un calcolo con l'indice che hanno utilizzato loro, perché in questo modo tu riesci a fare una comparazione. Se tu usi un tuo indice, ovviamente la comparazione non è possibile e tradizionalmente gli indici che si utilizzano sono quelli che hai trovato in quella tabella. C'è anche una ragione, per via del fatto che tu puoi praticamente andare a mettere assieme, cioè anche casi che, vengono da delle differenti rilevazioni. Bisogna vedere se ha senso farlo, perché non sempre ha senso farlo. Il problema delle best evidence è, cioè appunto anche questo, perché non è sufficiente prendere dati che vengono da 50 rilevazioni e andarle a mettere assieme. Prima devi fare un ragionamento se li puoi mettere assieme. quando l'hai fatto, li prendi, li metti assieme e fai il calcolo. Ma è appunto importante che usi gli indici che sono utilizzati in letteratura, perché così puoi fare delle comparazioni. aggiungo anche un elemento, poi non so se vedeva anche il professor Calvani che ha attivato la telecamera, ho fatto avere un intervento. Prima di questo, una distinzione che forse può essere utile rispetto alla questione che ponevi, è tenere ben distinto il significato tra test di significatività statistica ed FX-Side. Cioè, in molti articoli si trova che l'autore ha condotto una sperimentazione che con il risultato è statisticamente significativa attraverso test che vanno a valutare appunto l'ipotesi zero. Ma questa informazione ti dice, e te la dico un po' in termini molto intuitivi, se l'effetto osservato è reale o è attribuibile a una casualità. In realtà l'FX-Side ti dice un'altra informazione. Quanto grande è l'effetto? Questa considerazione può sembrare banale, ma è fondamentale perché da questa deriva un'altra implicazione di questo tipo di analisi. Il fatto che tu trovi una misura che non è statisticamente significativa non è detto che sul piano pratico non sia significativa. Cioè, può aver avuto un impatto sul piano pratico significativo pur non essendo statisticamente significativo. Sono due significati differenti. Potrei anche andare oltre e dirti che potrei trovare una misura statisticamente significativa, ma che sul piano pratico, per una serie di considerazioni che potremmo esplodere, non ha significatività pratica. Questo fraintendimento a volte è comune nella ricerca e deve essere molto ben chiaro in mente sul significato di questi test. Questo è molto importante. Appunto aggiungo ancora un'altra cosa. Vi ricordo che la premessa è che l'FSIZE è un indice di forza della relazione. Quindi non stiamo lavorando sulla significatività della relazione, ma sulla forza della relazione. Quindi tu puoi utilizzare l'indice R di Pearson, puoi utilizzare la Z di Fisher, puoi utilizzare l'F di Snedecor, puoi utilizzare qualsiasi cosa, ma che ti dia un'idea della forza della relazione. Il delta di Glass, l'ID di Cohen e il G di Edge, cioè sono indici di forza della relazione. Professor Calvani ha... Io lo chiamerei piuttosto un indice della entità della differenza, cioè il calcolo della correlazione, TD student, se vogliamo la forza, la significatività della correlazione, TD student, ma la differenza, l'entità della differenza tra due elementi di comparazione, come diceva Giuliano, insomma, ci può essere anche una forte correlazione, ma la differenza è bassa, oppure viceversa. Oppure viceversa. Quindi è un indice sostanzialmente diverso. Ma io vorrei però, prima ascoltare un po' gli interventi per capire anche se, insomma, queste questioni che possono apparire molto tecniche, lo sono molto tecniche, insomma, suscitano delle idee sulla applicabilità anche in un contesto come quello italiano. E poi magari fare qualche considerazione su questa necessaria traduzione di questa cultura, cultura dell'evidenza, cultura dell'affidabilità, in un contesto come il nostro, che è ben diverso. Perché io non so, credo, forse nessuno, forse il nostro amico Luis potrà un giorno fare una metanalisi, lui stesso, ma se la vuol fare dovrà andare a prendere tutto materiale all'estero, perché in Italia il materiale, i contenuti, cioè le ricerche sperimentali che sono il nocciolo poi per fare la metanalisi, non lo troverà mai, credo, non lo so. Forse chi vivrà fra 20 anni avrà modo di assistere ad una metanalisi fatta in Italia. Forse siete giovani, forse ci riuscirete, ma ho qualche dubbio. Cioè, né in Italia manca la materia prima, cioè il problema che abbiamo noi è quello di insegnare è che a fare una ricerca sperimentale. Se prendiamo dieci ricerche che esistono in letteratura, voi vedete che nove sono ricerche qualitative in cui è tutto debole l'impianto della valutazione, come si valutano i risultati, è lasciato molto alla soggettività. Poi ci sono una, due con un po' di impianto sperimentale, forse una con un impianto sperimentale preposto, i gruppi di controllo sono già una grande rarità. Quindi noi abbiamo bisogno, in questo Paese, prima di tutto, di diffondere una cultura della valutazione e poi una cultura dell'evidenza, cioè dei criteri di affidabilità che si devono usare ogni volta che ci si affronta un problema di valutare l'efficacia di un programma, di una ipotesi. Insomma, c'è un grosso lavoro da fare di natura culturale, ma direi forse anche, o non so se ci sia Marta, se sia presente, il rapporto, per esempio, al contesto americano. I contesti americani usano molto, come dire, dei criteri di valutazione proprio per le decisioni da assumere per le scuole. Avendo tanta ricerca sperimentale alle spalle, a loro torna comodo, facile anche dire, usiamo questo programma, mettiamo il programma Singapore per la matematica, perché c'è dietro un alto livello di evidenza e non un programma picco-pallo che non è stato mai sperimentato. E nelle normative americane, diciamo, la valutazione dei livelli di affidabilità è articolata molto bene, con livelli, diciamo, promettenti, livelli di affidabilità media e consistente. Io credo che se, appunto, Sapie, come associazione che si occupa di queste cose, gli amici, in particolare, Trinchero e Giuliano, ma, insomma, anche altri, se si riuscisse a fare un gruppo per elaborare una specie di lavoro, un saggio che indica dei criteri attraverso i quali dovrebbe essere, dovrebbe passare la valutazione di qualità di un buon programma, di una buona ricerca. Noi faremmo già una cosa molto utile. Possibile vedere che passano come buone pratiche in questo Paese ricerche che sono definite buone pratiche proprio da chi le ha fatte. Mi presento un articolo, capita spesso di leggere, mi presento una buona pratica e si tratta di fare questo, questo e questo. I risultati non ce ne sono. Chi lo dice che è una buona pratica? Lo stesso autore che presenta l'articolo. Ma vogliamo creare un minimo di sistema di triangolazione e distinguere tutti i progetti, per esempio, che vengono proposti alle scuole quantomeno in due o tre livelli. Un livello di affidabilità iniziale potremmo dire preliminare dove c'è magari un test oggettivo di controllo ma non si va oltre, dove i campioni sono piccoli, un livello promettente in cui c'è per esempio anche un gruppo di controllo che già avere un gruppo di controllo in Italia è come dicevo un'eccezione e un livello magari consistente di evidenze consistenti dove sono state fatte più ricerche che hanno portato a convalidare certe ipotesi di partenza. Cioè, noi bisognerebbe fare qui un lavoro, pubblicare anche e, diciamo, anche e soprattutto da parte di giovani ricercatori delle ipotesi di lavoro che aiutano a pensare in questi termini. quindi è tutto un lavoro a monte che deve fare da interfaccia tra questo mondo sofisticato molto rigoroso che voi avete presentato e che però è tipicamente internazionale, americano in primo luogo e anche in Europa diciamo questi ragionamenti sono scarsamente sentiti e un contesto come quello italiano. Cerchiamo di fare un ponte tra questi due modi. Questo è un po' una carambata in realtà perché poi è una cosa che volevo prima che maturasse e poi discutere anche con voi ma anche con i presenti perché e metto un link qua in chat così lo si può vedere da un po' di tempo sto partecipando promuovendo questo gruppo a cui sono stato invitato perché nasce da un'iniziativa di altre persone che si chiama Studi Randomizzati il gruppo di Studi Randomizzati per la valutazione di impatto delle politiche sociali è un gruppo che mette insieme persone di natura diversa sociologi economisti gente dal mondo dell'educazione eccetera adesso hanno appena condotto e terminato una prima rilevazione degli Studi Randomizzati condotti in Italia non ho ancora visto i risultati definitivi ma mi dicono circa una quarantina di RCT nell'ambito scolasco italiano io che ancora non ho visto però vabbè un po' carambata perché in realtà è un qualcosa a cui poi volevo anche invitarvi se volete interessate a partecipare ma che va un po' nella direzione di quello che dicevi poi mi fermo anche qua se qualcuno poi vorrà approfondire ne parliamo perché in chat c'era Enrico che chiedeva di intervenire per fare una domanda sì grazie per la parola buonasera a tutti e grazie a tutti i relatori per gli interventi che mi hanno sollecitato molte connessioni io sto sono dottorando di ricerca il secondo anno in pedagogia sperimentale presso Università Cattolica e sto conducendo una ricerca sul tema della valutazione di impatto di programmi educativi e la domanda che mi hanno sollecitato i vostri interventi è questa se sia possibile utilizzare o in letteratura sia già presente una dimostrazione dell'utilizzo di un indice come quello dell'Effect Size per valutare gli impatti intesi però forse anche nel senso più tra virgolette autentico ovvero nel lungo termine e diffusi non tanto sulla persona ma più sulla comunità perché ho rilevato almeno una prima review che sto conducendo attraverso l'Eric che ci sia però ovviamente può essere un'ipotesi che non è ancora assolutamente confermata un utilizzo certamente della ricerca quantitativa e dell'Effect Size anche per valutare l'impatto più nel breve termine quindi forse più in termini di outcome su variabili come per esempio l'apprendimento invece faccio molto più fatica a trovare un utilizzo di indici statistici e di ricerca quantitativa per valutare nel lungo termine e sulla comunità quindi anche l'impatto inatteso e ecco così e mi interessava capire sulla base della vostra esperienza dei vostri studi se aveste rilevato una direzione di applicazione di ricerca anche in questa direzione grazie allora se vuoi andare tu Giuliano puoi come preferisci allora prego Giuliano vai dire questo che mi ricollega una cosa che ha detto prima Roberto perché troviamo tanti studi sugli apprendimenti per quello che dicevi tu adesso probabilmente è molto più facile perché hai una struttura e anche una condizione più strutturata fare questo tipo di valutazioni nel mondo ad esempio scolastico che tradizionalmente ha la possibilità è più facilitata di fare certi tipi di analisi la difficoltà a volte nasce quando fai valutazioni di impatto di interventi educativi anche noi ci troviamo ad esempio adesso a volte a fare progetti valutazioni di impatto degli interventi volte a ridurre la povertà educativa se pensi su dei finanziamenti al governo che vanno in questa direzione e peraltro in uno è proprio più molto sappi di questi progetti il progetto sul filo non è impossibile attuare questi indici è l'analisi del costrutto che diceva prima professor Trincaio nel senso che operazionalizzare trovare gli indicatori validi per rappresentare il costrutto del tipo della povertà educativa questo tipo di operazione è la cosa concettualmente più difficile che non l'applicabilità dell'indice che poi diventa una banalità ma è l'operazione concettuale di traduzione di un costrutto così se vuoi astratto indefinito in un qualcosa che abbia degli indicatori realmente esaustivi osservanti misurabili non so Roberto se puoi certo aggiungo che bisogna fare un distinguo quando noi parliamo di FSI siamo nella statistica chiaro cioè quando noi diamo impasto dei dati all'FSI cioè li costruiamo perché il dato si costruisce cioè noi siamo nella metodologia della ricerca quindi sul piano statistico l'FSI si può utilizzare per qualsiasi cosa basta dargli un pasto dei dati su come costruisci quei dati lì devi fare un discorso di metodologia e lì allora devi ragionare sui costrutti devi ragionare sugli indicatori devi ragionare sui piani di appunto rilevazione dei dati cioè se tu hai dei piani che durano un solo anno ad esempio cioè tu non potrai fare delle ricerche che erano genitoriali se tu hai dei piani io ho appunto in mente degli studi interessantissimi che hanno fatto gli statunitensi cito appunto Boer e Staples un lavoro sulla matematica che è durato cinque anni cioè loro hanno seguito per cinque anni dei docenti di matematica della scuola secondaria e diciamo hanno misurato i progressi dei ragazzi oltre a fare delle osservazioni di tipo antropologico di quello che succedeva in quella classe lì allora tu con quei dati che sono costruiti in un certo modo che sono fatti per essere comparabili puoi andarti a trovare gli FCS da un anno all'altro e puoi andare a vedere in quale modo cambiano quindi la difficoltà non è tanto nel trovare l'indice ma nel costruire un buon dato perché poi è molto importante riuscire a costruire un buon dato perché a costruire dei brutti dati dei dati fatti alla Carlona siamo capaci tutti cioè quello che è difficile è il costruire dei buoni dati che fotografino veramente quella realtà cioè quindi la difficoltà è nel costruire buoni dati c'è meno difficoltà nel costruire buoni dati sugli studi che durano qualche mese per una serie di motivi è più difficile riuscire a costruire dei buoni dati sull'impatto quando tu lavori su degli studi longitudinali che durano un certo numero di anni in Italia credo che soltanto Gattullo abbia fatto dei lavori del genere una cinquantina di anni fa ok cioè e ragionando più che altro in una prospettiva qualitativa più che quantitativa ok cioè quindi molto importante andare a recuperare la metodologia della ricerca cioè quando c'è dietro una buona metodologia poi allora gli entra la statistica e gli entra appunto anche l'effet size era forse Antonio Marzano che voleva dire qualcosa Antonio sì buonasera buonasera a tutti grazie mille è veramente molto interessante e mi associo a quello che è il pensiero triste riguardante lo studioso a Bob Salewin che non è più tra noi veramente una notizia triste no voglio dire una cosa molto semplice in effetti il professore Calvani è un po' quello che avete detto tu e Giuliano più o meno stiamo dicendo la stessa cosa cioè in Italia c'è una scarsa sensibilità chiamiamola così così non si offende nessuno alla metodologia della ricerca educativa il professore Calvani è stato in ASN e chi più di lui potesse modinarci come dire la non ricchezza ecco diciamo così per non chiamarla la povertà di studi randomizzati e la questione legata anche a mio avviso all'elaborazione statistica dei dati cioè oggigiorno se vediamo anche sulle riviste soltanto italiane che pubblicano ricerche randomizzate quindi con un disegno di ricerca molto robusto ce ne sono assai poche e quindi probabilmente e noto anche le domande che vengono fatte che sono su questa linea domande sulla metodologia della ricerca in educazione quindi probabilmente su questo anche Sapie potrebbe come dire svolgere fare una riflessione per avviare magari qualche cosina che possa approcciare positivamente su questa questione voglio sommessamente ricordare come segretario vicepresidente Sapie ma soprattutto segretario della SIRD che anche la SIRD si è posto questo problema e probabilmente su questa cosa c'è il nostro direttore scientifico in linea si potrebbe fare qualcosa insieme perché stiamo pensando a fare dei seminari proprio sulla come dire sull'elaborazione statistica più che sulla metodologia della ricerca educativa che è un disegno molto più ampio e molto più come dire irto di insidie e mi fermo qui grazie ci sono altri chiamati in causa da più interventi a qualche Antonio vuoi aggiungere qualcosa? no no credo che il problema il problema è più la cultura della valutazione secondo me la cultura con la SIRD si potrebbe fare qualcosa in effetti sulla cultura della valutazione perché questo è il punto fondamentale si fanno progetti ma non si valutano mai i risultati le scuole sono inondate da progetti progetti sono liste di buone intenzioni quando si va a dire ma questo progetto che risultati ha avuto non si trova mai nulla o quasi nulla o si trovano le opinioni soggettive di quelli che lo hanno prodotto o implementato che sono naturalmente sempre favorevoli non ho mai trovato nemmeno un progetto in cui c'è scritto l'abbiamo provato non ha funzionato mai trovato su centinaia di casi che mi sono capitati nella letteratura non ho mai trovato il che insomma la dice lunga sul sul modo in cui si usa il concetto di progetto di sperimentazione e cose di questa natura quindi è una criticità fondamentale nel modo di pensare della nostra cultura certo che questo è inevitabile dare una risposta che sia SIR sia SAAP chiunque sia perché attualmente non esiste una sola grossa fonte di finanziamento nel settore educativo dai fondi governativi europei che non ti richieda di indicare e precisare dettagliatamente nel progetto come valuti il raggiungimento degli obiettivi e l'impatto a lungo termine continuamente ebbene vengono distanze da chi lavora in questo ambito che spesso si rivolge poi ai dipartimenti anche di pedagogia in Italia che mi ha citato una mano in questo e c'è venuta una difficoltà forse anche un po' generalizzata non di tutto della comunità a dare una risposta concreta di come gestire questo tipo di valutazioni che non sono sicuramente semplici però è inevitabile è ineludibile questa domanda ormai ma formalmente per quello che vedo nei template di ogni progetto c'è sempre la dichiaratoria valutazione indica gli obiettivi eccetera eccetera però viene sempre o elusa o mal interpretata insomma io sono del parere che per esempio anche con costrutti così difficili e complessi come quella che voi avete accennato prima cioè il concetto di povertà educativa un intervento deve mostrare che ha agito sulla povertà educativa mamma mia c'è da perderci cosa vuol dire povertà educativa come la misuri da quale punto di vista però con tutto ciò se tu definisci comunque un modello concettuale lo circoscrivi e dici per me povertà educativa significa questo questo e questo e non altro dopodiché lo puoi operazionalizzare quindi ci puoi accrocchiare una serie di strumenti di indicatori che lo monitorano e di strumenti di valutazione magari a distanza in questo caso non di tre mesi ma di tre quattro cinque anni qui teoricamente è possibile ma bisogna entrare in questo concetto che la valutazione è il punto fondamentale con cui tu comunque ti devi confrontare quando fai un'attività progettuale non la metti all'ultimo poi la valutazione la vedremo dopo no è la prima cosa che devi avere in mente accanto alla presentazione del modello concettuale che presiede al conseguimento dell'obiettivo e alla valutazione stessa lo devi affrontare subito se non è chiaro quello parti già sperperando dati e risorse e noi oggi per questo paese non si può più permettere di sperperare dati e risorse con progetti a go go siamo diventati un progettificio una continua sperimentazione che non ha mai messo a regime niente questo non da due o tre anni ma da almeno una ventina d'anni vedremo se posso intervenire vedremo il professore Calvani ha ragione vedremo il ministero quando partorirà i progetti prim perché ci sono voci di corridoio vedremo i progetti che passano perché ci sono voci di corridoio molto interessanti su costrutti fantascientifici che pare abbiano avuto come dire avuto un positivo riscontro in ambito ministeriale parliamo di due trecentomila euro e quindi potremo magari interessarci anche alla valutazione di questi progetti positivi o negativi che siano non si sa al momento però insomma fra due o tre mesi dovrebbero essere partoriti dalla madre nostra e di tutte le emanazioni ministeriali questa lista in ambito pedagogico l'ultima lista voglio dire è stata molto e non so se Antonio professore Galvani ne ha conoscenza ma come dire quelle direttive poi sono state abbandonate il fatto è che si investe e poi si lasciano lì questi progetti che è un peccato dico andiamo avanti in qualsiasi ambito vengano portati avanti pare che invece ormai siano risorse che servano un po' per pubblicare un po' per fare qualche convegno ma credo che in questo momento grosse idee non ce ne siano almeno per quei progetti che sono stati approvati i prossimi speriamo bene questo aggiungo soltanto un'ultima cosa buona parte delle valutazioni nei progetti formativi riguarda il gradimento questo è ovviamente un grosso limite voi pensate a qualsiasi tipo di corso che avete frequentato vi hanno chiesto di fare un questionario di apprendimento o di cambiamento delle vostre pratiche no vi hanno chiesto di fare un questionario di gradimento una questionario di gradimento lascia il tempo che trova cioè perché è facile valutarlo cioè tanto facile quanto inutile valutare il gradimento sì cioè può essere un accessorio può essere in qualche modo un esito ancillare però quello che è veramente importante è andare a vedere se un corso di formazione se un intervento educativo oppure formativo hanno raggiunto gli obiettivi che si prefiggevano gli obiettivi che si prefiggevano non sono quelli di avere un buon gradimento mi auguro ma sono quelli di andare a modificare una situazione quindi lavorare sugli apprendimenti lavorare sui cambiamenti e sui cambiamenti organizzativi cioè dobbiamo riprendere in mano il buon vecchio Kierpatrick e estenderlo e farlo conoscere Ad università è uguale la valutazione degli studenti per la qualità della didattica si riferisce a un percorso ma sfido chiunque a dire non mi piace quando un docente per esempio attribuisce un carico inferiore in termini di studio e quindi tre capitoli invece di due libri o quando è cattivello agli esami che dall'anno precedente la voce si sparge e gli studenti già partono con un effetto alone sul docente e quindi e come dire in chiave longitudinale è difficile avere una positiva valutazione vale un po' per tutti questo si chiama populismo valutativo ho voglia di non lavorare traduco no no è un puro populismo valutativo si si cerca il gradimento con opportuni stratagemmi benissimo allora ci sono altri interventi? benissimo allora penso che se non vi sono altri interventi possiamo chiudere qui non so se Giuliano voleva ancora raggiungere qualcosa ho solamente un pensiero vero ma 30 secondi si trama la cultura della valutazione che in realtà non riguarda solamente poi la nostra comunità ma è una sfera più alta alla decisione politica perché pur affermando quello che ho detto prima che non c'è finanziamento che oggi non ti richiami esplicitamente diceva anche Antonio la necessità di arrivare a una valutazione dei risultati e di impatto poi lo noti nelle fonti di finanziamento quando hai magari l'affidamento di servizi educativi o di altra natura faccio un esempio senza fare le citazioni un milione e seicentomila euro di servizi educativi per un triennio fonti per la valutazione dodicimila euro su un progetto da un milione e seicentomila vuol dire che c'è un problema che chi ti dice che la valutazione è fondamentale e poi in realtà non alloca le risorse per significa che non ha nella sua testa una cultura della valutazione non è solo un problema a livello di chi la devi mettere in pratica ma è chi deve decidere su come finanziare tali attività hai perfettamente ragione benissimo bene grazie a tutti allora potete rivedere il tutto su youtube e metteremo a disposizione anche le slide sul sito dei mercoledì di sapie e vi aspettiamo numerosi ai prossimi appuntamenti che saranno ancora più interessanti di questo grazie a tutti buon lavoro a tutti buona serata buona serata